salve community e bentornati nell'efverse è arrivato finalmente il primo trailer di capitan america brave new world il trailer doveva arrivare nella giornata di ieri anch'io diciamo tramite le mie fonti mi avevano assicurato doveva arrivare invece poi credo io che si sia voluto dare spazio a un trailer di alien romulus e il trailer di cap sia stato spostato di 24 ore per dare un po al trailer di alien di respirare per evitare che oscurasse magari il film di fede alvarez detto questo il trailer arrivato facciamo la reaction io non vedo l'ora voglio vedere cosa mostreranno perché più o meno avevo una descrizione voglio vedere se effettivamente è quello che più o meno sapevo allora 3 2 1 via ok l'anteprima giusto cos'è questa questi glitch è il nuovo look ok vero attenzione cosa succederebbe ah sì ma signori sei a bradley provando ad uccidere il presidente attenzione ma allora lo vediamo un po il capo cioè vedo vedere un po giustamente e quindi hanno messo esposito giustamente ooooh le fighezzerie eh con quelle ali si fa di tutto ok ok ooooh va bene va bene va bene va bene va bene è giusto mi sembra più che giusto lo riguardo di nuovo e ne parliamo due secondi perché c'è tanta roba ok ho confermato infatti la descrizione che mi avevano mandato perché è simile a quello del CinemaCon perché ci sono le stesse battute, alcune scene le hanno lasciate però ci sono un sacco di scene aggiunte in fretta e furia perché fanno parte dei reshoot c'è perfino Giancarlo Esposito quindi hanno cercato di portare un trailer, di preparare un trailer il più velocemente possibile per distribuirlo insieme a Deadpool e Wolverine cercare di sfruttare l'onda di successo del film Marvel che arriva questo mese proprio per prepararci a quello che vedremo il 12 febbraio del prossimo anno del resto sappiamo che con i reshoot il budget si è alzato tantissimo e quindi era giusto cominciare a pompare la pellicola c'è davvero di tutto, vediamo questo conflitto a largo di Tiamut Sam interviene per qualche motivo, mi è piaciuto come si ritorni proprio come i film di Capitano America dei Russo ad un'atmosfera più thriller infatti abbiamo questo Isaiah Bradley per qualche motivo spara al presidente e da quel momento in poi parte una caccia di qualche tipo insomma il presidente è compromesso vediamo anche il capo, non lo vediamo direttamente ma lo vediamo parlare con una voce fuoricampo e lo intravediamo prima di intravederlo vediamo però Sam e il nuovo Falcon che si intruffola in una sorta di area di sicurezza dove trovano nel sottosuolo una sorta di camera di tortura insomma diciamo che non ti fanno capire bene la trama però vi posso dire che alcune cose secondo me sono piazzate molto bene a me il trailer mi ha fatto venire l'hype forse perché ci credo tantissimo in questo progetto hanno deciso di non risparmiarsi per quanto riguarda la CGI vi dicevo alcune scene sono prese direttamente dai reshoot perché il film per un bel po' è stato reshootato e ci sta che non sia proprio al 100% forse la chicca principale del trailer arriva alla fine ed è un primo sguardo a Red Hulk non lo vediamo in faccia però sappiamo e confermata anche la sua presenza del resto è inutile fare dei trailer che vadano a nascondere a essere completamente blindati ormai la campagna marketing di Marvel Studios sta puntando a qualcos'altro il sentore ce l'avevo già per i trailer di Deadpool e Wolverine e qui è confermato non ha senso tenere segreti se vuoi creare l'hype soprattutto per il pubblico generalista fai capire che qui di roba ce n'è tanta immaginatevi che cosa mostreranno col secondo trailer confermata tutta la trama appunto con Tiamut il celestiale che stava emergendo sul finale di Eternals quindi si scoprirà che lì ci sarà qualcosa scopriranno qualcosa che porterà a questo possibile conflitto a questa tensione fra le nazioni in alcune sequenze vediamo Falcon col vecchio costume comunque bianco credo che quelle siano le scene di apertura del film staremo a vedere se Giancarlo Esposito lo ritroveremo per altre scene ma può essere anche che come molti sospettano sarà il nuovo Batroc cioè quello che magari ti infilano all'inizio del film e poi te lo riprenderanno non si sa quando però poi nelle sequenze più vicine alla Casa Bianca la vediamo perfino distruggersi lì siamo già verso il finale del film e Sam ha un altro costume è il costume finale che a me piace da morire comunque e Cap fatto è finito mi piace questo confronto con il Presidente Ross perché dice proprio non sei Steve Rogers e dice no non lo sono sono qualcos'altro sono un'altra persona però posso comunque fare il culo e il fatto di aver aggiunto Red Hulk è proprio fatto apposta per battezzare il personaggio sul grande schermo al 100% so che molti non credono in questo Cap ma dovete sempre tenere a mente che Falcon e The Winter Soldier il pubblico generalista non l'ha vista l'ultima volta che il pubblico generalista ha visto Sam è stato in Avengers Endgame quando Steve Rogers consegnava a lui lo scudo questo vuol dire che è dal 2019 che stanno aspettando di rivederlo o comunque non lo rivedono dal 2019 e quel film ha fatto 3 miliardi quasi non fatevi ingannare da quello che avete visto nella serie perché anche il film cercherà di passarci un po' oltresì magari qualcuno menzionerà qualcosa perché c'è Isaiah Bradley che l'abbiamo conosciuto in quella serie ci sarà modo di bypassare alcune cose e rendere il tutto un po' più ex novo un po' più appetibile commercialmente vediamo anche una scena di un funerale questa scena è stata una delle prime cose che hanno girato però non per i reshoot parlo proprio delle riprese quelle regolari chi c'è dentro quella bara c'è chi sta cominciando a speculare ci sarà Steve Rogers magari muore il presidente stanno tutti pensando chissà che cosa sappiamo che in queste scene comunque torna Betty Ross Betty Ross è la figlia del presidente Ross torna di nuovo Liv Tyler dall'incredibile Hulk e in questo film in realtà i ritorni sono tanti perché anche Tim Blake Nelson che farà il capo torna proprio dall'incredibile Hulk si vanno di nuovo a richiudere diverse sottotrame particolari che cosa posso dirvi gli abbonati dell'Efevers lo sanno ci sono delle cose per quanto riguarda la gestione del capo che non mi fanno impazzire spero che con i reshoot abbiano deciso di cambiarlo ma è più il rapporto fra il presidente e il capo che non mi convince per chi ha letto gli scoop sa per il resto ho davvero tanto hype ditemi la vostra io veramente sono galvanizzato e non vedo l'ora non vedo l'ora anche di vedere di più detto questo io vi chiedo di lasciarmi un like se questa reaction veloce veloce vi è piaciuta vi chiedo anche di iscrivervi al canale attivare la campanella per restare aggiornati ci vediamo in live sono aperti gli abbonamenti qui sotto se cliccate abbonati vi esce il video e vi spiega i due livelli di abbonamento molto semplice ma ricchi di vantaggi e per il resto che dirvi noi ci ritroviamo sempre qui e da IECAP non dubitate mai di me questa è una cosa che ci tenevo a dire e niente Filippo F chiude Filippo 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 Filippo